Le cellule cosa sono formate? Da molecole. Il 98% delle molecole nel nostro corpo, ce n'è una molecola, è acqua. L'acqua è formata da due atomi. Due atomi di idrogeno, e scusate, H2O, due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno. Giusto? Perché l'idrogeno è diverso dall'ossigeno? Bisogna farsi queste domande. Perché in natura, nell'universo, ci sono 118 tipologie di atomi. Cioè 118 tipi di mattoni diversi. Ci siete? Cosa si dividono questi mattoni? Per la fisica meccanicistica, quindi grazie a Newton, si dividono in numero di elementi. Cosa vuol dire? Questa che vi sto spiegando adesso, io la chiamo adesso la scienza della luce, che mette d'accordo tutti. Perché noi siamo esseri di luce. Ve lo dimostro il perché siamo esseri di luce. Siamo formati da atomi? Da cellule, molecole, atomi? Ok. Gli atomi, che cos'è l'atomo? Un sistema solare, in miniatura. C'è un sole centrale, chiamato nucleo, come il nostro sole a Sarazia, e dei pianeti intorno, chiamati elettroni, come sistema solare.